Il sindaco di Teramo nella giornata di ieri ha emanato un'ordinanza con la quale dispone in via preventiva e cautelativa il divieto di usare l'acqua per uso potabile a collaterrato basso. L'acqua potrà essere utilizzata solo dopo l'ebollizione di almeno 10 minuti. L'ordinanza è stata emanata a seguito della nota che l'ASL di Teramo ha inviato in mattinata al comune con la quale dopo controlli effettuati su un campione prelevato presso Fosso Inferno in via Domilani risultava che l'esame dei batteri coliformi e escherichia coli eseguito dall'ARTA ha dato risultati non conformi ai parametri di legge. La Ruzzoretti ha comunicato oggi l'esito degli analisi compiute questa mattina sulla conduttura d'acqua di collaterrato basso rilevando nella negatività in relazione alla presenza di agenti inquinanti. Si attende ora per procedere alla revoca dell'ordinanza emanata ieri l'esito degli analisi da parte dell'ASL che giungeranno presumibilmente nella giornata di domani. In ogni caso il comune continua a monitorare costantemente la situazione.